L'affluenza di quest'anno a Didacta Puglia è stata importante, siamo al secondo giorno e siamo visitati da tantissime scolaresche, da tantissimi nostri partner, siamo molto contenti dell'affluenza di quest'anno. Noi quest'anno giochiamo in casa perché siamo in Puglia, a Bari e siamo anche main sponsor, Basibo quest'anno è main sponsor della manifestazione insieme ai colleghi di CNC di Bari, sempre. Noi non abbiamo portato tantissime novità, quest'anno diciamo che abbiamo lavorato più sul coinvolgere i ragazzi in alcune, noi le abbiamo chiamate challenge, le Vacebo challenge, che spaziano dalla robotica alle STEM e quant'altro. Non abbiamo portato grandissime novità attualmente sul mercato perché stiamo aspettando, veniamo da un periodo importante di finanziamenti e quindi stiamo ancora completando queste forniture nell'attesa di nuovi finanziamenti. Nell'attesa dell'Italia ci stiamo focalizzando ad andare fuori, stiamo internazionalizzando l'azienda, abbiamo appena aperto negli Stati Uniti e negli UK a Londra e quindi puntiamo ad esportare quello che è il nostro marchio fuori dai confini del territorio nazionale.